salve a tutti amici amanti dei bei libri e delle letture ad alta voce io sono rosanna meglio conosciuta come la voce narrante con la faccia intorno protagonista di questo episodio speciale della narratrice di sogni sarà remo bassini scrittore giornalista e persone estremamente interessante e affascinante con la quale ho avuto il piacere di conversare alcune settimane fa per una delle mie chiacchierate semiserie che vi invito a guardare al link che troverete in descrizione al video oppure nelle schede informative che troverete in alto destra o in alto sinistra perdonatemi ma non me lo ricordo mai comunque oggi sono qui perché mi piacerebbe leggervi un brano tratto dalle pagine dell'ultimo romanzo di remo bassini che si intitola la donna di picche edito da fanucci casa editrice per la collana nero italiano inizio con leggervi la trama il commissario pietro dalla vita e alle prese con una nuova indagine nella provincia piemontese una famiglia potente che nasconde inquietanti segreti un omicidio insoluto senza un movente senza un sospettato una città vercelli perennemente avvolta da una fitta nebbia che rende i rapporti tra le persone ambigui e sfuggenti e intorno luoghi misteriosi sui quali si tramandano leggende nere è un'inchiesta delicata e dolorosa quella che è chiamato a svolgere il commissario dalla vita inviato dalla omicidi di torino in missione speciale a vercelli alle spalle ha una scia di successi professionali ma anche fallimenti personali e sentimentali che lo hanno trascinato in un vortice di depressione dal quale non riesce a sollevarsi insieme a lui a far luce sull'efferato assassino di un brillante avvocato il fedele ispettore domenico tavoletti e due donne una di cuori e una di picche saranno le voci di queste ultime a raccontare l'inchiesta perché la sua di voce dalla vita ormai l'ha persa vi leggo un brano tratto dal primo capitolo torino di notte stavo facendo il solito sogno quello da non raccontare mai a nessuno nel sogno sempre uguale però c'era qualcosa di diverso un suono che mi era familiare che mi svegliò guardai la sveglia era passata da poco luna impiegai un po di secondi prima di capire che qualcuno aveva suonato il panello mi precipitai a rispondere magari è successo qualcosa a mio figlio pensai chi è sono pietro pietro dalla vita posso salire pietro è successo qualcosa sali pure vieni scusami micaela ho bisogno di un bicchiere d'acqua tirai un sospiro di sollievo ivano non aveva avuto nessuna crisi e nella penombra mi guardai allo specchio dell'ingresso vicino alla porta che avevo aperto stavo sorridendo certo che potevi salire avevo dormito sì e no due ore ma lo stordimento fu accantonato da una sorta di euforia ero felice che pietro fosse lì in quest'ora ultimamente mi salutava con un cenno della mano senza guardarmi però lo sapevo stava attraversando un brutto periodo rifugiva un po tutti pensai che non mi importava di farmi trovare con il pigiama perché le vestaglie non le ho mai sopportate spettinata con i miei capelli da maschio corti e grigi perché non mi sono mai voluta tingere e con le rughe di tutti i miei 50 anni e passa purtroppo eri solo e io ero contenta che tu avessi pensato a me magari avevi saputo che ero sola perché ivano lavorava di notte il bicchiere d'acqua era di sicuro una scusa dalle scale però nessun rumore tu non lo sai ma ti conosco bene so come sei fatto decisi di andargli incontro e infatti lo trovai immobile con la gamba destra irrigidita sul primo gradino e mocassino blu sul secondo stavi pensando di andartene lo so lo costrinse a salire prendendolo per mano pietro dalla vita il fiore all'occhiello della questura di turino titolava un giornale solo un paio di anni prima non era più così da alcuni mesi dalla vita era solo un poliziotto stanco e tormentato vicino alla pensione in quest'ora lo sapevano tutti che aveva rotto con la moglie e perso la testa per una criminologa maria grazie ribelli che però lo aveva lasciato e aveva fatto ritorno negli stati uniti dove aveva ripreso a collaborare con la polizia americana e così dalla vita era diventato un argomento mondano e piuttosto gettonato un giorno avevo sentito il vicequestore antonino scaglia che parlando al telefono con un giornalista diceva senza curarsi di abbassare il tono della voce che vuoi succede a tanti il nostro dalla vita ha scoperto che al mondo non esiste solo la figa della moglie stai soffrendo per maria grazie ribelli lo so pensai mentre entravamo in casa non mi sbagliavo c'erano altri macigni spero di essere riuscita a incuriosirvi con questa mia lettura ad alta voce di un brano tratto dalle pagine del romanzo se volete scoprire chi è la donna di picche che dà il titolo a quest'opera vi consiglio di leggerla l'autore è remo bassini la casa editrice fanucci la collana è nero italiano grazie per avermi ascoltata fin qui buona lettura grazie